Il Presidente dell'Organizzazione delle Svolte di Popoli, Carlo Trafficante, sessantesima edizione, un bel numero, che edizione sarà anche a livello motoristico? A livello motoristico la gara è una gara valida, è l'ultima prova del campionato italiano prima del girone delle finali, quindi abbiamo avuto un ottimo riscontro dal punto di vista della partecipazione, ci sono quasi tutti i piloti che hanno fatto il campionato fino ad oggi, un bel numero di partecipanti, speriamo in una riuscita, quindi nel solco di quello che è stato fatto fino ad ora. Sono 60 anni, dal 1963, si sono avvicendati un po' tutti gli specialisti della salita, ancora oggi abbiamo il pilota che è in testa al campionato, Simone Fagioli. Il Presidente Giampiero Sartorelli, che rappresenta l'Automobile Club di Pescara, è un orgoglio perché Popoli arrivare a 60 anni con tante manifestazioni sportive che in Abruzzo purtroppo hanno ceduto il passo, vuol dire che la tradizione vince un po' su tutto. La tradizione vince un po' su tutto, ma soprattutto qui vince la qualità, la qualità di un percorso molto tecnico, molto difficile, apprezzato da tanti piloti che forse vengono qui perché hanno sempre la speranza di poter vincere questa gara, che veramente averla nel Palmares è importantissimo. 60 anni per un territorio che vive di motori, ha tanti appassionati, ha dato tanto all'automobilismo sportivo. Per me è un privilegio rappresentare l'ente che ha creato questa manifestazione e continuo a seguirla dopo 60 anni con grande impegno. Io penso che sia una delle più belle gare che ci siano in Italia.